I carabinieri in quell'abitazione erano intervenuti unicamente per sedare una lite, ma quando si sono presentati sul posto hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga. È successo la notte del 24 dicembre scorso a Montevarchi, dove sono scattate denunce e manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un'abitazione del centro storico Montevarchino era infatti scoppiata una violenta lite tra quattro uomini nigeriani. I militari, chiamati dai vicini, erano così intervenuti per riportare la calma, ma alla vista delle forze dell'ordine uno dei presenti avrebbe iniziato a dare chiari segni di nervosismo. A quel punto i carabinieri avevano deciso di perquisire l'appartamento trovando due voluminosi involucri. Al suo interno c'erano quasi due chili di marijuana, 11 grammi di eroina confezionata in 21 dosi pronte alla vendita, un bilancino di precisione e 80 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio, oltre a cinque telefoni cellulari presumibilmente utilizzati per tenere contatti con i loro clienti. Tutto il materiale è stato sequestrato, il proprietario di casa arrestato e denunciato in stato di libertà uno dei suoi coinquilini. Entrambi sono risultati essere in possesso di permesso di soggiorno ed incensurati.